Penso che voi dobbiate cambiare posto! Incredibile hanno risolto il puzzle! È un gracchio! Penso che voi dobbiate cambiare posto! Incredibile hanno risolto il puzzle! È un polipo! Penso che voi dobbiate cambiare posto! Incredibile hanno risolto il puzzle! È una medusa! Penso che voi dobbiate cambiare posto! Incredibile hanno risolto il puzzle! È un'ancora! Penso che voi dovete cambiare posto Incredibile hanno risolto il puzzle E' una sirena Penso che voi dovete cambiare posto Incredibile hanno risolto il puzzle E' un pece spada